Buonasera, questa sera a Newsroom approfondiamo uno dei temi del giorno da ormai una settimana, ossia la vicenda della RSA Calamatta, lo facciamo con il responsabile sanità della rete dei cittadini Pino Antonucci, buonasera, ben trovato e come sempre con Sonia Bertino che ci accompagnerà al touchscreen. Allora entriamo subito nella cronaca della giornata visto che da pochissimo si è concluso l'incontro, peraltro abbiamo un comunicato stampa appena arrivato dal comune di Civitavecchia con una dichiarazione del sindaco Moscherini che aveva convocato appunto la riunione con ASL e sindacati, ancora una volta con la CGL e la UIL assente la CISL che non ha sottoscritto neppure l'accordo di ieri. Dicevamo la dichiarazione del sindaco, l'accordo è peggiorativo per i lavoratori, la situazione non è ancora chiara. Il primo cittadino praticamente descrive quelle che sarebbero le basi su cui si sarebbe raggiunto questo accordo praticamente con la riduzione del monteore complessivo da 38 a 34 ore settimanali con contratti a tempo indeterminato tuttavia part time e non più full time come previsto in precedenza per i lavoratori che lavoravano appunto nella cooperativa che gestiva il servizio prima della Melanie Klein che è subentrata con il nuovo bando dell'ASL. Peraltro il sindaco ha anche fatto rilevare che nell'accordo manchi anche la firma di un sindacato che sebbene appunto intervenuto nelle trattative non ha sottoscritto il nuovo atto. Moscherini ha ribadito la necessità di analizzare il nuovo accordo alla luce del precedente sottoscritto il 10 agosto tra ASL, sindacati e comune in cui venivano previsti specifici obblighi verso i lavoratori precedentemente in forza alla struttura sanitaria. Moscherini ha fatto già sapere che riconvocherà sindacati, ASL e impresa per verificare se appunto il nuovo accordo sia in linea con il precedente dello scorso agosto. L'ASL per bocca del direttore generale Salvatore Squarciona ha già escluso categoricamente che parteciperà ad ulteriori incontri convocati sul tema che secondo la dirigenza aziendale rappresentano incontri su tematiche di natura sindacale che non interessano l'azienda. Queste le ultimissime Antonucci, sappiamo che anche lei oggi ha seguito da vicino questo incontro intanto la sintesi della situazione è questa, o c'è anche qualcosa da aggiungere e poi qual è la posizione? La rete dei cittadini è una delle voci che si sono levate in questi ultimi giorni su una questione che ricordiamolo riguarda da vicino il futuro lavorativo di 35 persone. Sì, diciamo più o meno è quello che è scaturito da questa riunione. Secondo me, dipendentemente da come si vuole interpretarla, quando alla fine quella riunione comunque ha portato, se vogliamo, dopo magari alcuni momenti burrascosi, ha portato anche alla necessità sia da tutte e due le parti, l'organizzazione sindacale e l'amministrazione comunale a ripetere più o meno l'accordo per vedere se si può migliorare. Ma il direttore generale, il dottor Squarcioni, ha detto che comunque va bene, insomma, quando alla fine non sono problemi di natura sindacale che possono competerlo e quindi lui per quanto riguarda non so se poi verrà alla prossima riunione. Io per quanto mi riguarda ritengo che molto probabilmente per arrivare alla soluzione di questa vicenda che è diventata una vicenda che veramente rischia di creare nuove sacche di precariato a Civitale, che è quello che poi tra l'altro non vogliamo nessuno, tutto sommato, non lo vuole il sindacato, non lo vuole l'Ase, non lo vogliono specialmente i lavoratori interessati, non lo vogliono le forze politiche. Devo dire però che a questo accordo, anche se è un accordo sul quale io non mi trovo molto d'accordo, anche io, noi della rete dei cittadini eravamo lì, presente oltre il sottoscritto anche Mario Flamini, tra l'altro il coordinatore della rete dei cittadini, eccetera. Sicuramente non ci fa bene sentire certe cose, tra l'altro, anche perché noi riteniamo questi attacchi che ci sono tra istituzioni, eccetera, noi riteniamo che per la risoluzione dei problemi che salvaguardano il diritto alla salute e il diritto e la salvaguardia del posto di lavoro, a quei problemi bisogna che tutte le istituzioni insieme debbano lavorare. Ecco, questo è quanto noi abbiamo in testa. Devo dire anche a onor del vero che era al primo, almeno da quello che ci hanno detto i sindacati, il primo contatto con la cooperativa giuridicatrice, sembri che al primo contatto lì non c'era nessun tipo d'accordo, assolutamente niente, tanto più che si dice, sempre tramite i sindacati, che la Melania e Clei non voleva assolutamente questo tipo d'accordo, voleva addirittura su quasi tutti, almeno quello che dicono, se non abbiamo capito male, dei contratti di inserimento che sono peggio del precariato, sono peggio poi di quelli dei contratti a tempo determinato. Questa vicenda mi fa piacere perché rientra in quelle che sono le nostre cose che diciamo tutti i giorni, come rite cittadini. A questa vicenda sono intervenute molte forze politiche. Ecco, questo è uno dei nodi da scioglia, perché oggi ad esempio si registra anche la dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Cappellani, che dice la politica faccia un passo indietro perché si stanno levando troppe voci e questa è la lettura di Cappellani, non vorrei che in realtà si utilizzasse questa vicenda per cercare di mettere pressione e di anticipare in qualche modo per quanto possibile l'uscita e soprattutto l'eventuale successione alla direzione generale di Squarcione, il cui contratto scadrà, se non andiamo errato, il prossimo mese di marzo. Lei condivide queste affermazioni del Consiglio oppure è un caso politico questo o è soltanto un caso sindacale e di rapporti fra azienda e lavoratori? Guarda, io stimo moltissimo il buon Francesco Cappellani, tra l'altro è uno, ho sempre detto al di là delle nostre divergenze anche dal punto di vista politico, tra l'altro è un Presidente del Consiglio che ha sempre garantito, tra l'altro ha garantito il Consiglio Comunale, devo dirlo sinceramente. Però in questo momento veramente mi sembra una uscita un po' infelice perché a chi gioverebbe il fatto stesso, visto che sappiamo che il direttore Squarcione tra un anno ci saluterà sempre se... No, molto meno, come scadenza contrattuale diciamo, poi bisognerà vedere se sarà rinnovato ovviamente noi non abbiamo nessun problema, ma non è questo il problema, noi non vogliamo sicuramente, ma né noi, perlomeno la rete dei cittadini, non è così, vogliamo entrare in merito a queste cose. L'unica cosa di quale noi vogliamo entrare in merito è la salvaguardia del posto di lavoro di 35 persone con gli stessi, con lo stesso status quo che hanno fino adesso, dal punto di vista salariale. Poi se il DCA 90, a cui... Spieghiamolo ai telespettatori... Il DCA 90, poi tra l'altro è una legge dove, tra l'altro, indicano che all'interno stesso dell'istituto, che poi tra l'altro si chiama impropriamente, come ha detto anche altri, l'RSA non è un'RSA, è un istituto di natura psichiatrica, all'interno della quale tra l'altro ci sono pazienti gravi di tipo psichiatrico, non è che ci sono anziani o l'RSA all'altro. La sigla è anche improprio, potrebbe trare in inganno per il tipo di attività e di pazienti che appunto... Trae in inganno perché in effetti quella non è un RSA ma è un istituto psichiatrico, poi toccherebbe andare a vedere anche se quell'istituto psichiatrico ci potrebbe anche essere, però questo è un altro tipo di normativa, anche altri tipi di cose. Ma proprio per questo noi diciamo, questo è considerato che in quell'istituto ci sono delle persone gravi, noi dobbiamo garantire, oltre che il posto di lavoro ai dipendenti che sono personale, specializzato e qualificato, dobbiamo garantire anche l'assistenza sanitaria di tipo psichiatrico, io sottolineerei questa cosa perché l'assistenza sanitaria di tipo psichiatrico tra l'altro non è la stessa assistenza che si fa o in ospedale o in altri ambulatori, dove la continuità terapeutica di rapporto con l'operatore sta alla base di una buona riabilitazione. Quindi se si capisce questo, allora su questo noi dobbiamo lottare affinché sia i pazienti che gli operatori debbano rimanere su quel posto di lavoro perché ne va della salute dei pazienti. Che ormai sono abituati proprio ad avere un rapporto diretto e continuativo appunto nel tempo con il loro operatore poi, quello che diventa il loro assistente. Guardi, io ho lavorato 40 anni in psichiatria quindi penso di poterle dire queste cose, ho fatto molto modestamente l'infermiera come tanti colleghi che stanno lavorando all'interno del calamata. Le posso assicurare, chi ci ascolta, chi ci vede, che il rapporto che c'è, il rapporto emotivo è un rapporto terapeutico che si stabilisce tra l'operatore e il paziente. Troncare di netto questa cosa è l'inizio, può essere l'inizio, perché poi in psichiatria non c'è mai niente di spiega. Però può essere un trauma. Può essere sicuramente un trauma. Per cui noi come rete dei cittadini continuiamo a dire, noi vogliamo che si garantisca la continuità, quindi il diritto di una persona ad essere, se volete, assistita dal punto di vista psichiatrico e il diritto del lavoratore che si coniugano tutti e due. Per questo noi siamo entrati in campo. Siamo entrati in campo perché a noi, sono venuti anche da noi, rete dei cittadini, alcuni lavoratori a dirci queste cose. Perciò non è che siamo intervenuti così, quasi come dopo tutto sommato è sottoscritto, lo sente pure come momento emotivo, quindi siamo qui. Questo è per quanto riguarda queste cose. Altri, devo dire, non siamo soltanto noi, ci sono state altre forze politiche che sono scese in campo a difesa dei lavoratori, eccetera, eccetera. Molto probabilmente tra le forze politiche che sono scese, cosiddette, non mi piacerebbe sto scese in campo perché come sempre mi ricorda qualcuno che è andato via. Però in effetti siamo entrati in gioco così anche noi perché riteniamo che questa è una cosa importantissima, come l'hanno fatto altre forze politiche. Questo ha determinato comunque secondo me, insieme, voglio dire tra l'altro anche alla bravura dell'organizzazione sindacale, che poi c'è anche per loro perché posso riconoscere certamente la bravura dell'organizzazione sindacale, l'onestà dell'organizzazione sindacale, come voglio tra l'altro sottolineare l'onestà anche dalla direzione generale della ASR e altri. Voglio dire che insieme a tutte queste forze che si sono messe in campo abbiamo più o meno costretto la Melani Klein a ritornare un po' indietro. E questo per ora è quello che conta come primo momento perché rispetto al primo impatto, l'impatto era disastrato, era disastroso, quindi nessuno poteva assolutamente… Ma anche perché diciamo che il primissimo passo fu quello addirittura di non arrivare neanche all'inserimento professionale, anche perché da un punto di vista squisitamente normativo e giuridico, sia la ASL che dice tramite il direttore generale Squarcione, noi ad oggi non abbiamo alcun obbligo di inserire nei capitolati e nei bandi la clausola e il vincolo di mantenimento praticamente per chi si aggiudica il bando del personale precedente, sia ovviamente l'azienda anche a fronte di specifiche richieste fatte in fase di richieste e dichiarimenti sul bando non avrebbe alcun obbligo, da un punto di vista, parliamo sempre soltanto normativo e giuridico, di riassorbire quel personale. Quindi è ovvio che è una trattativa che si fa in gran parte sul piano sindacale con la necessità che sia in qualche modo diventato un caso politico per ritornare alla domanda originaria, soprattutto in un contesto in cui si perdono posti di lavoro a Iosa, è chiaro che 35 persone costituiscono oggi un caso ancora più eclatante, se vogliamo, di come lo sarebbero stati comunque anche in un altro contesto. Sì, dico, ma il problema sta proprio a quello che dicevo prima, che anzi, noi ci siamo resi conto, non è che la rete cittadini, le organizzazioni sindacali, gli altri partiti che sono intervenuti a favore degli operatori dell'ERC. Però diciamo che questa è stata una storia un po' singolare e se vogliamo strana fin dall'inizio, perché ricordiamolo andando indietro con la memoria, fin dall'estate intanto c'è stato chi ha detto, ah ma già si sa chi vincerà questo bando, poi o era facile indovinare o leggendo magari da tecnici il capitolato si poteva intuire chi potesse avere le caratteristiche, questo non lo so, però fatto sta che rispetto a quello detto da diversi partiti anche di diverse estrazioni, perché qui è intervenuto l'Udc, ricordiamo l'ex assessore Vinaccia, poi è intervenuta Sinistra e Libertà, quindi la rete di cittadini, diciamo che anche qui è stato veramente un intervento ad ampio spettro, se lo vogliamo definire così, per restare in tema di medicinale insomma. Però sarà stato un caso, alla fine il nome che è uscito, è quello che era stato previsto, è quello che poi è risultato essere della cooperativa vincitrice. In più, se aggiungiamo appunto questa libertà, chiamiamola così, che è stata riconosciuta dall'azienda proprio in un chiarimento ufficiale durante la gara sostanzialmente, di non avere alcun vincolo rispetto alle assunzioni, rispetto appunto ai precedenti lavoratori, è ovvio che le premesse per creare un po' così un giallo tra virgolette sulla pelle di 35 persone c'erano tutte e mi pare che poi le premesse appunto non sono state disattese purtroppo in questo caso. Ma sì, intanto premetto che personalmente io, insomma la Presidente della rete dei cittadini, Ombretta del Monte ed altri nostri, abbiamo partecipato sin dall'inizio al tavolo tecnico, tanto perché ce l'hanno chiesto alcuni lavoratori e tra l'altro noi abbiamo chiesto al sindaco come se ci potesse ospitare, insomma ci ha ospitato, chiaramente in silenzio, come si suole nei tavoli tecnici. E quindi dal 10 agosto io ero lì, non ci sono andato, insomma non è che perché non ci sono andato, perché non andavo, però stavo lì, insomma eravamo lì e l'abbiamo tra l'altro portato avanti fino alla fine. C'erano dei rumors, come si dice in giro, ecco, che avrebbe vinto questa, comunque avrebbe vinto una certa cooperativa sociale, qualcuno si è spinto ancora di più, ecco in termini ironici, io mi auguro che non l'abbiamo fatto, perché in effetti a parte questo, qualcuno addirittura ha detto metteremo in una busta, la famosa busta eccetera eccetera, e bla 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 la lettera o il nome di quella che vincerà eccetera, ma a noi su quello non è che ci siamo un attimo inappoggiati, abbiamo domandato chi fosse e ci siamo un po' mossi. Non vi siete inoltrati su questo territorio? No, perché l'ho già scritto su altri articoli sempre della rete dei cittadini, a noi non interessa fare i detective, a noi ci interessa soltanto che 35 lavoratori rimangano a lavorare lì, però che cosa era successo? Visto e considerato che noi comunque sapevamo già ufficialmente, poi mi sono andato a prendere insomma le documentazioni, ufficialmente che una di quelle litte o di quelle cooperative aveva chiesto all'ASL alcuni riferimenti di legge sull'obbligo eccetera eccetera di assumere l'ASL gli ha scritto, ufficialmente ha detto no, tu rispetto alla legge 16 non hai nessun vincolo rispetto ai precedenti operatori. Allora noi su quella cosa ritengo e riteniamo come rete dei cittadini, lo sottolineo perché poi qualcuno può mettere in mezzo, noi non portiamo la brocca di nessuno né tantomeno tiriamo la volata a nessuno. Ci siamo resi conto che quella legge, la legge 16 regionale, era una legge iniqua nei confronti dei lavoratori che metteva, avrebbe messo in serio pericolo il posto di lavoro dei 35 persone. Abbiamo cominciato a lottare fortemente, noi volevamo che a quel tavolo ci fosse un accordo che perlomeno, tra l'altro, si discutesse su una operazione da fare attraverso un sentiero che era molto stretto, che era proprio quello che molto probabilmente ha meno requisiti di legge, però tra l'altro ha più requisiti di tipo sociale che è quello della quantità terapeutica dei pazienti che venivano sempre seguiti da quel tipo di operatori che erano lì da 10 anni, perché c'è gente che esegue da 10 anni, alcuni da 3 anni e gente che esegue da 10 anni. Ripeto, per chi ancora non lo capisse, ci sono pazienti psichiatrici che stanno in cura 20-25 anni con lo stesso operatore, fino a quando poi l'operatore va in pensione, oppure viene a mancare, anche lì e poi, e lì posso assicurare, ci sono stati inizi di trauma quando io lavoravo. Allora, il problema sta su quello. Noi sapevamo comunque, al di là di tutto, che è vero che c'è il requisito di legge, però sapevamo anche che chiunque avesse preso o avesse vinto questa gara, la prima cosa che pensano è mica pensano di poter investire più soldi, pensano a risparmiare, cosa che poi è verificata. Allora noi volevamo che tutte le istituzioni in campo, tutte le istituzioni in campo, cercassero di trovare un mezzo, o se inventassero qualche cosa, per bypassare alcune cose e mantenere lo status quo dei lavoratori con il proprio salario e nello stesso momento, finisco con lo stesso momento, poi tra l'altro, la continuita terapeutica. Peraltro, sempre per entrare nella schiena di quelli che vogliono pensare male, però come diceva qualcuno, si fa peccato ma spesso ci si azzecca, c'è anche chi nel Calderone ha anche gettato il fatto che essendo in periodo preelettorale probabilmente 35 posti di lavoro o giù di lì, qualcuno magari sarebbe stato riassorbito, potevano essere interessanti anche sotto questo aspetto. Senti, i rumor ce ne stanno tanti su questa vicenda, chi pensa in un modo, chi pensa in un altro modo, forse qualcuno penserà pure perché tutti questi lavoratori, al di là del discorso stesso del professor Squarcione che va via, però 35 lavoratori potrebbero essere un buon veicolo, se vogliamo, di suffragi. Però il problema non è questo, non c'è assolutamente, anche perché da me per esempio ne sono più dei due, non più ne sono più dei dati, però in effetti… Ci fermiamo solo per qualche istante e poi ritorniamo con Pino Antonucci.